buonasera buonasera tutte e tutti siamo arrivati al diciottesimo appuntamento di comunicazioni di servizio le dirette che facciamo ogni settimana in cui intervistiamo professionisti aziende artigiani mondo del volontariato visionari sognatori gente insomma che ha delle storie belle da raccontare a volte poco conosciute ma che sicuramente sono interessanti e hanno anche spesso dei buoni consigli da darci cosa che non è scontata io sono francesco patrucco insieme ad alberto che mio fratello ci occupiamo di comunicazione insieme formiamo la patrucco comunicazione da dieci anni a torino lavoriamo in tramiti comunicativi quello della grafica del video e del digital nelle diramazioni web e social questa era la doverosa premessa siamo pronti con l'ospite di oggi che già collegato quindi lo farei comparire a video e do il benvenuto benvenuto a luca streri che francesco ciao benvenuto allora tu sei il fondatore di un movimento molto interessante di cui adesso ci racconterai un po un po di cose che si chiama mezzo pieno io ti do subito la parola però per così ci introduci attraverso la tua storia che non è una storia scontata io all'inizio ho detto usato la parola visionari spesso noi intervistiamo delle persone che hanno dei sogni delle visioni positive belle e che poi si adoperano per realizzarle io credo che scoprire la tua storia sia molto una cosa molto interessante quindi ti do la parola così ci racconti bene e grazie francesco grazie a tutti benvenuti mi fa piacere essere stato invitato da voi oggi sono molto contento di poter spendere quest'oretta insieme e mi chiesto di parlare della mia storia la mia storia è fondamentale per sapere come è nato mezzo pieno e risale a una a un percorso percorso che nel 2005 mi porta da ex agente di borsa impegnato in svizzera in una banca d'affari svizzera a rimettere in dubbio un po tutte le le mie certezze e a seguire quello che era la mia visione il mio sogno parlato di visionari tutti abbiamo un sogno e io da quando ero ragazzino avevo il sogno di andare aiutare i poveri in india e solo che sono quelle cose che a volte spesso te le dici e agli altri e poi a molti trovi vecchio e non le hai mai fatte io mi sono trovato 32 anni a a dirmi io questa cosa la voglio fare veramente non voglio solo dirla e quindi nel 2005 ho salutato mi sono licenziato salutato la banca in cui lavoravo a ginevra e sono partito per lì per seguire questo aiutare le persone bisognose e di lì iniziato un grande cammino che continua ancora oggi io vivo ancora in questa missione portato nel sud dell'india proprio nel 2005 insieme a diversi parri missionari che erano qui da diverso tempo e ancora oggi vado e vengo tra l'india e l'italia e quindi è fondamentale sapere questo perché anche mezzo piano è nato dal mio confronto dal mio viaggiare tra queste culture così diverse così antitetiche per certi aspetti una quella dell'india estremamente povera e carica di spiritualità carica di valori e di significato per la vita e l'altra quella occidentale quella dove io sono nato e dove ancora oggi mi trovo in questo momento opulenta ricca e benestante che però probabilmente mi sono accorto sta perdendo fortemente i suoi valori e si sta legando dei valori molto più evanescenti che sono quelli del consumismo del capitalismo che tra l'altro per chiudere il cerchio era il mondo in cui io mi interfacciavo quando vivevo in svizzera quindi un andato e ritorno passando ogni volta dal via direbbe qualcuno che gioca monopoli e quindi ecco questo andare tornare tra l'italia e l'india in questi ultimi 15 anni mi ha fatto notare quanto abbiamo bisogno di riappropriarci di un modo di vedere il mondo che è il modo che ho imparato con i poveri in india con queste tribù con cui io vivo da 15 anni che non hanno veramente niente non hanno nulla loro ogni giorno devono mettere insieme il pranzo con la cena non sanno se mangeranno finito un pasto chi lo sa quando sarà il prossimo quindi vivono davvero alla giornata e ciononostante hanno una un grande amore per la vita e una grande gratitudine per gli elementi e per la terra loro sono animisti quindi hanno queste religioni legate alle alle forze della natura al fuoco all'acqua e alla terra agli animali e sono sempre contenti sono persone che vivono pochi anni la loro età media di vita la loro aspettativa di vita media molto bassa in queste tribù e sotto i 40 anni eppure vivono pochi anni in grande armonia con la natura con l'ambiente tra di loro avendo così poco da condividere e invece io ogni volta che torno qua mi accorgo che le persone hanno davvero tanto lo tengono sempre più stretto fanno difficoltà a condividerlo e forse anche per questo hanno una percezione di vita di piacere di vivere decisamente inferiore e quindi per questo motivo nel 2014 più o meno quindi 5-6 anni fa ho deciso di fare qualche cosa perché alla insistente domanda degli amici e delle persone con cui io vivo qui in Italia ma cosa possiamo fare per noi voi che fate tante cose belle in India cosa possiamo fare per gli italiani per farli stare un po' meglio io con gli amici con cui lavoro in India mi sono interrogato mi sono chiesto cosa manca i soldi li abbiamo le strutture li abbiamo da mangiare ce l'hanno tutti perché la gente mi chiede di aiutarle cosa posso fare per loro allora mi sono accorto che c'era qualcosa che sapevo veramente bene che era valorizzare il poco quindi potevo aiutare le persone a riappropriarsi di un modo di vedere il mondo più grato più fiducioso che è quello che mi hanno insegnato le tribù indiane con cui vivo ed è lì è iniziato mezzo pieno che è iniziato come una semplice storia di narrazione cioè ho chiesto alle persone con cui lavoro in India e quindi con questi cooperanti che vanno e che vengono studenti insegnanti docenti universitari tecnici gli ho chiesto di raccontare le cose belle che trovavano quando tornavano a casa ognuno nel suo settore o nella sua famiglia nel suo condominio che era medico magari raccontare una nuova scoperta medica che permetteva di superare una malattia oppure un ingegnere che mi raccontava di una scoperta scientifica che migliorava la vita delle persone o un imprenditore che invece di licenziare assumeva o che invece di valorizzare solo il profitto valorizzava anche qualcos'altro nella sua azienda come magari le relazioni capitale umano o altre cose che la gente non conosce ecco da lì ognuno delle persone che poi nei mesi successivi si sono avvicinate a questo progetto ho chiesto loro di raccontare con una semplice storia quindi con un articolo delle cose positive una notizia positiva del settore in cui loro vivevano quindi con una conoscenza del settore non copiando di qua e di là ma raccontando esperienze vissute e di lì è nato un blog un blog che nel giro di pochi mesi è diventato virale evidentemente l'idea era veramente buona abbiamo avuto decine di migliaia di lettori e di lì abbiamo detto allora questa cosa davvero serve forse vale la pena fare qualcosina di più e di lì abbiamo inventato ciò che oggi è il movimento mezzo pieno quindi una rete di persone di associazioni di enti che insieme lavorano per diffondere la cultura della positività ok la presentazione mi sembra molto interessante io aggiungo che ho letto che quando sei andato in India poi hai collaborato con Yunus Mohamed Yunus se la pronuncio non sei è quella corretta che è stato poi premio Nobel per il microcredit insomma quindi quando inizio dicevo che ci confrontiamo sempre con persone che hanno storie importanti dietro tutta questa storia che hai raccontato ci sono anche conoscenze che hai fatto di persone veramente in gamba che stanno cambiando il mondo ci provano e in parte ci riescono che non è cosa assolutamente da poco quindi credo che la tua competenza e conoscenza nell'ambiente sia molto interessante e molto importante a me è sempre piaciuta questa frase il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto questa è una cosa secondo me geniale alcuni addirittori ti dicono io non vedo neanche il bicchiere e forse succede molto in occidente quello che dici magari in altre latitudini c'è una visione diversa poi è sempre come si vede la stessa cosa e poi è interessante la parola positivo che io penso positivo penso a giovanottino alla canzone oggi il termine positivo in queste ultime settimane in questi ultimi mesi ha acquisito una connotazione un po' diversa perché se io dico sono positivo a certe cose può anche spaventare quindi è interessante poi come dietro le parole ci sia tanto hai voglia di raccontarci quindi nel concreto le azioni che avete fatto perché appunto c'è un movimento ma so che avete fatto una marea di iniziative per diffondere quest'idea di pensare positivo cioè secondo me è geniale questa cosa di essere positivi di vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi rispetto alle notizie hai parlato del blog ma avete anche strumenti comunicativi importanti quindi ti chiederei di raccontarci qualcosa di queste esperienze che avete portato che secondo me possono, stanno e possono cambiare un po' la realtà beh sì il fatto che noi siamo diventati un movimento vuol dire che ci sono dentro tante realtà che quindi noi facciamo un po' da coagulatore di iniziative come vi dicevo dopo aver visto il successo del blog abbiamo deciso di rendere concrete le cose che dicevamo quindi abbiamo scritto un manifesto abbiamo detto quali sono i principi attorno ai quali noi ci riconosciamo e abbiamo scritto questo manifesto per la pratica positiva in cui abbiamo enunciato i valori in cui ci identificavamo e abbiamo chiesto alle persone perché erano tante quelle che leggevano il blog e che ci dicevano bellissimo finalmente erano tutti un po' questi i commenti lo sono ancora oggi finalmente era ora ce n'era proprio bisogno e poi quasi sempre subito dopo ci chiedevano ma cosa posso fare io cosa fantastica perché sentivo una grande partecipazione un desiderio di entrare dentro questo pensiero di agire e quindi io sono una persona molto concreta avendo la andata in borsa ho bisogno di vedere dei risultati questo mi è rimasto dal mio mondo della finanza e quindi anch'io sentivo desiderio di uscire dalle parole e mi è piaciuto sapere che tanta gente volesse fare qualcosa e loro gli ho detto guardate se vi trovate questi sono i nostri valori io ancora oggi a chi ci chiede cosa posso fare dico guarda il nostro manifesto se ti riconosci in questi valori entra fa parte del nostro movimento che è un movimento ideologico quindi non richiede associazioni quote associative ma solo un'approvazione identitaria quindi di sentirsi parte di qualcosa che si sta muovendo in una certa direzione tutti insieme a questo punto quando la gente si riconosce in questo manifesto la fase successiva è ascoltare quali sono le loro proposte perché ognuno ha le proprie competenze e i propri campi di azione quindi è dalle persone che abbiamo poi cominciato ad avere le prime idee di progetti i primi sono stati per esempio gli insegnanti che mi hanno detto ma possiamo portare questa idea anche ai ragazzi delle scuole ne avrebbero tanto bisogno i bambini e noi dopo circa un annetto che il blog partito abbiamo cominciato a farlo diventare cartaceo diventato una rivista una free press quindi abbiamo creato quello che è Mezzo Pieno News che è la prima e unica per adesso free press italiana di sole buone notizie che viene distribuita sul territorio da moltissimi volontari da centinaia di volontari ai quali noi inviamo le nostre riviste ogni due mesi quando escono e chiediamo di portarle nei loro cerchi di amicizia nei loro circoli di competenza questo è successo anche nelle scuole quindi tantissimi insegnanti ancora oggi portano questa rivista nelle classi insegnanti di italiano per parlare di come scrivere un articolo oppure di religione o insegnanti di geografia perché questa rivista raccoglie buone notizie da tutto il mondo di tutti i settori è molto eterogeneo l'argomento quindi tratta dall'ambiente all'economia dalla medicina all'impresa insomma cerca di interessare un po' tutte le categorie con un linguaggio semplice ma professionale quindi ci sono dei giornalisti questa è un'altra categoria che è entrata a far parte della nostra rete abbiamo tantissimi giornalisti professionisti di tutti i tipi anche freelance che offrono i loro articoli per la nostra rivista e che vanno nelle scuole a insegnare ai ragazzi a scrivere in modo costo quindi a fare dei laboratori di giornalismo costruttivo questo è diventato il nostro programma più importante perché oggi abbiamo più di 800 scuole che fanno questo in tutta Italia quindi che fanno laboratori di scrittura positiva di lettura critica quindi cerchiamo di analizzare cosa vogliono portarci le notizie che leggiamo quali sono i messaggi che possono contenere anche subliniali quindi fare attenzione a quali sono le eventuali manipolazioni che anche l'informazione può portare l'attenzione alla verità delle notizie alle fake news un tema molto attuale in questo momento la valutazione delle fonti quindi è molto importante che i ragazzi si facciano un'idea loro del mondo dopo aver letto un articolo non che ciò che leggono diventi la loro verità ma una parte della verità che poi loro devono costruirsi quindi è molto importante che si sviluppino delle capacità critiche di analizzare il mondo questo lo facciamo in tante scuole ed è una cosa molto bella che coinvolge davvero tantissimi istituti tantissimi insegnanti a diversi livelli e poi i ragazzi hanno cominciato a fare anche il tg delle buone notizie quindi qua per utilizzare anche le nuove tecnologie per coinvolgerli in modo diciamo moderno perché insomma bisogna usare anche il loro linguaggio abbiamo pensato qualche anno fa di fare usare i loro cellulari in classe e dopo che hanno fatto un lavoro di selezione delle buone notizie dai giornali riscrittura quindi lettura critica scrittura costruttiva a quel punto li facciamo anche diventare protagonisti e creiamo un vero e proprio palinsesto televisivo dove loro recitano e enunciano la loro notizia noi poi la montiamo il nostro team video la monta con tutti i crismi di un vero telegiornale la musica i sottotitoli e diventano dei telegiornali veri con delle notizie vere raccontati da loro che poi girano in diversi canali anche nazionali molto spesso li avrete visti anche sulla Rai o su altre testate e anche cartacee perché sono proprio queste testate che ci richiedono per diffondere questo bel principio del giornalismo fatto dai ragazzi inoltre il prodotto si presta anche tanto per lo scambio sui social i ragazzi si mandano da un telefonino all'altro il loro telegiornale quindi anche la parte del protagonismo possono sentirsi protagonisti di un cambiamento fatto da loro in cui la loro faccia le loro parole vanno a incidere sul mondo in che modo? in modo positivo quindi anche come alternativa a questo scambio di così massiccio che i ragazzi hanno sui social di messaggi a volte un po' vuoti o magari che copiano cose fatte da noi vogliamo che diventi una tendenza un modo di chiamare un modo di chiamare le cose di chiamare il loro impegno ed è questo il TG delle buone notizie io se siete d'accordo ne manderei un pezzettino io vi ho portato due TG uno quello dei ragazzi delle scuole italiane però lo stesso TG lo facciamo anche con i bambini delle scuole indiane quindi vedete voi se volete mandarmi uno o l'altro possiamo mandare tutti e due un pezzo di tutti e due così ci facciamo un'idea perché poi i ragazzi se lo mandano da una scuola all'altra un altro lavoro bellissimo è mettere in comunicazione come stiamo facendo noi adesso con questi streaming le classi di bambini indiani dei villaggi indiani con le classi di bambini italiani e la prima cosa che si mandano è un TG delle buone notizie per ogni nazione che poi sarà l'argomento di cui tratteranno nella loro chiacchierata questi bambini con un traduttore naturalmente un interprete per scambiarsi le buone pratiche delle due nazioni ok allora chiamo il video buongiorno da Giorgia e benvenuti a TG delle buone notizie oggi vi parleremo del primo supermercato che abolisce la plastica è il primo supermercato con al suo interno un reparto con circa 700 prodotti senza imballaggi in plastica gli imballaggi in plastica sono sostituiti da quelli in biomateriali compostabili ma anche di vetro e cartone questo supermercato si trova ad Amsterdam in Olanda ed è stato inaugurato dalla catena Eco Plaza e viene chiamato Plastic Free lo slogan di Eco Plaza è ma se pensavi di non poter fare a meno della plastica per imballare cibo e bevande beh ti sbagliavi buongiorno sono Michelle e bentornati in un'altra buona notizia questa era la versione italiana quindi adesso se voi guardiamo quella invece indiana di non poter di non poter di non poter di non poter Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E diceva all'infermiere, mi sono ammalato per colpa di tutte le notizie del telegiornale in cui si parla solo di Covid. Non entro nel merito perché non mi interessa, però ovviamente è nato un putiferio. Però l'idea di fondo è che aprendo un telegiornale si ascoltino solo notizie di un certo tipo, molto pesanti, molto negative, che esci da quegli 10 minuti di telegiornale ancora più depresso e se non lo eri già, insomma, invece dire creiamo un TG delle buone notizie, facciamo una rivista in cui si parla di cose belle, che poi è una cosa che è contagiosa, è virale, se vogliamo stare su una parola che in questo periodo è molto in voga. E questo credo che sia una cosa importante. è brutto che hanno dentro, però devo dire che chi è polemico da noi viene automaticamente fatto fuori dalla comunità e quindi rimangono poi solo davvero i commenti costruttivi, molto più di quelli distruttivi. E tra i commenti che leggevo subito dopo che è nato il blog è stato proprio questo, molti mi chiedevano perché non chiediamo, non obblighiamo il giornalismo a mettere 50, almeno metà buone notizie. Non è venuta in mente a me sta cosa, me l'ho letta da tante persone che me l'hanno scritta e che quasi ci chiedevano per piacere, fatelo voi, se non lo fate voi chi lo deve fare? Noi da lettori non possiamo fare niente, poi i soliti commenti, io ormai il TG non lo guardo più, io ormai i giornali non li compro più, tutti questo ci dicevano. Meno male che ci siete voi, per fortuna piano piano queste cose hanno cominciato a prendere strada, noi abbiamo cominciato a portarle in giro ai nostri amici, anche giornalisti, quelli che hanno abbracciato la nostra causa da prima. Prima i giornalisti che erano vicini al mondo del terzo settore, con cui lavoravamo per l'India eccetera, e poi anche ad altri perché l'idea è davvero contagiosa. Per fortuna tanti giornalisti si sono identificati in questa idea e nel giro di poco tempo, nel giro di un paio d'anni poi è nato anche il Corriere Buone Notizie, io ho parlato molto con i ragazzi del Corriere, con Elisabetta Soglio, con tutte queste persone che oggi sono alla direzione del Corriere Buone Notizie e hanno aperto questa sezione del martedì che sta andando che bene e che quindi ha accolto la nostra proposta. Però sono in tanti ad aver creato poi negli anni successivi delle sezioni di Buone Notizie, le avrete forse viste, ci sono altri giornali, ci sono blog, sezioni di radio, c'è un po' di tutto. Per fortuna è diventata anche di moda questa cosa, forse ce n'era davvero il bisogno. Quello che abbiamo potuto fare noi, essendo i primi ad avere intrapreso questa strada, è stato quello di avere già subito una grande rete, quando questa moda dilagava, di essere noi un po' chiamati a essere un po' i coordinatori di questa rete. In modo naturale, proprio solo perché eravamo i primi, perché siamo quelli che l'abbiamo proposto, abbiamo rotto le scatole a tanti giornali e tanti giornalisti, a un certo punto naturalmente ci è venuta questa idea di metterci insieme, di diventare noi un po' i coordinatori di questo movimento per le buone notizie. E quindi abbiamo lanciato una campagna nazionale con tanti amici giornalisti, in cui abbiamo pensato di chiedere alle persone di esprimersi su questa idea. Siete d'accordo di chiedere ai giornali di avere almeno il 50% di buone notizie? E l'abbiamo messa su Change, che è la piattaforma più importante per la raccolta di firme, abbiamo avuto nel giro di due settimane 3.000 firme. 3.000 firme vere con nome e cognome, quindi gente che si è esposta. E allora anche lì abbiamo detto, caspita, forse ce n'è proprio bisogno. E di lì abbiamo avuto una seconda proposta degli insegnanti che ci hanno detto, ok, però dobbiamo anche anticipare ciò che potrebbe succedere, perché questo percorso di giornali richiederà tempo, dovremmo passare dalla politica, per gli incentivi, perché lo sapete che l'editoria è estremamente dipendente dagli incentivi. I giornali non potrebbero, quasi nessun giornale potrebbe andare avanti senza gli incentivi della politica, del governo. E quindi abbiamo detto, nell'attesa che il governo si muove, chissà se mai lo farà, per facilitare un certo tipo di editoria, portiamo questa proposta nelle scuole. Quindi, come vi dicevo, avevamo già questi laboratori, abbiamo allargato la proposta anche a ciò che coinvolge l'istruzione, cioè portare questo valore della comunicazione positiva e gentile anche nelle scuole. Quindi la campagna oggi è raccogliere firme, perché su due aspetti, portare più buone notizie nell'informazione, ma anche nella scuola. La settimana scorsa abbiamo superato le 6.000 firme, sì, le 6.000 firme, e nel luglio dello scorso anno siamo stati anche chiamati alla Camera dei Deputati, dall'ora segretario all'editoria, sottosegretario all'editoria, che ai tempi era primi, e ci ha chiamato per sentire qual è la nostra proposta e si era dimostrato molto interessato. Un mese dopo, purtroppo, il governo è caduto, e quindi adesso abbiamo a che fare con un nuovo sottosegretario che stiamo approcciando, presto lo incontreremo e riproporremo la nostra idea di incentivare di più un'informazione che sia a favore di una narrazione più positiva, che non vuol dire parlare solo di cose belle, ma vuol dire parlarne bene. Quindi ci sono diversi valori che intendono una buona notizia. Proprio per essere concreti, noi abbiamo lanciato insieme alla campagna anche un confronto con i giornalisti e con i ricercatori, quindi con l'Accademia, con alcune università, per creare una definizione di buona notizia che fosse supportata da basi scientifiche. E quindi ancora oggi stiamo lavorandoci per arrivare a parlare con il governo con una proposta concreta. Quindi digli cos'è per noi una buona notizia. Non vogliamo solo proporre di avere a meno metà delle notizie sui giornali, ma vogliamo anche dire cosa vuol dire buona notizia. E per questo ci stanno aiutando giornalisti, docenti, documenti che si occupano di comunicazione e di informazione, perché questa richiesta sia supportata da delle basi scientifiche. Quindi vi invitiamo, invitiamo tutti voi e tutte le persone presenti a leggere questa proposta, se siete d'accordo a firmarla, per avere un numero sempre più alto di firme, perché se vogliamo presentarci davanti a un'istituzione dobbiamo essere molti, se no rappresentiamo una piccola realtà, più siamo, più saremo rappresentanti di una moltitudine. Infatti volevo chiederti, ma mi hai risposto alla campagna attiva, quindi si può, anzi si deve, per chi vuole ovviamente andare a firmare, insomma per fare più massa critica, ad essere ancora più ascoltati. Mi viene una domanda, non so se è banale o se è una risposta da darci, ma perché i telegiornali, i giornali, insomma non ci sono arrivati da soli a quest'idea di trasmettere positività nelle informazioni che veicolano? C'è un motivo che è di carattere economico, di audience, oppure abitudine? Ci abbiamo pensato molto, ci lavoriamo tanto, fa parte delle ricerche che noi facciamo. Ci sono due aspetti, uno ciò che un giornalista vuole scrivere, e un altro ciò che può scrivere. Quindi sicuramente ci sono delle linee editoriali, che sono dettate dall'ente che ospita, che dà lavoro ai giornalisti, quindi a volte i giornalisti non possono scegliere molto. Però allora dobbiamo ragionare su cosa è detta le linee editoriali. Sicuramente il profitto, un giornale deve guadagnare per sopravvivere. Probabilmente c'è una vecchia scuola di giornalismo, voglio dire vecchia non per criticarla, ma perché ritengo che ormai sia anche superata, se ne sono accorti anche i giornalisti da qualche anno. Quindi una forma di giornalismo che era ancora molto basata sul sangue e sulla polemica come elementi per attirare l'attenzione del lettore. È vecchia perché, lo abbiamo visto, la gente si è stufata anche di questo. È stato così fino a quando Internet non è arrivato a muovere le acque, quindi quando l'informazione è diventata più democratica e tutti hanno cominciato a scrivere, ormai con Internet tutti possono essere scrittori giornalisti. Si è visto che bisogna fare molta attenzione perché ci sono anche dei blogger che riescono a fare dei numeri di lettori che superano anche le grandi state nazionali che sono cento anni che pubblicano. Quindi ci siamo accorti che, a prescindere dal contenuto, ci sono dei nuovi modi di fare informazione e che il giornalismo si deve adeguare. Uno di questi modi è quello anche di raccontare le cose che vanno bene. Oggi non è più una novità. Mi ricordo quando non abbiamo iniziato, nel 2014, era assolutamente naif. molti ci ridevano dietro e noi stessi tentennavamo dall'idea di scrivere cose del tipo che stiamo scrivendo oggi, però quando abbiamo visto la risposta ci siamo accorti che ce n'è davvero bisogno. La tua domanda è molto precisa. Perché gli editori scrivono questo? Perché la gente in un certo modo voleva questo. Allora mi sono fatto spiegare anche dai nostri amici psicologi con cui collaboriamo per la campagna per capire quali sono le buone notizie perché la gente in un certo modo vuole le cattive notizie. E mi hanno fatto l'esempio dell'incidente stradale. Avete presente quando c'è un incidente stradale cosa succede? Che tutti si accalcano attorno all'incidente per guardarlo. E di solito creano anche altri incidenti. E' proprio così. Allora leggere una brutta notizia ti dà una soddisfazione immediata morbosa che alla lunga può davvero avvelenare moltissimo però la nostra percezione del mondo. E' come quando guardiamo un incidente. Noi subito proviamo una soddisfazione che i psicologi mi hanno spiegato. Proviene dall'istinto di sopravvivenza. Perché noi guardando il luogo dell'incidente cerchiamo inconsciamente, studiamo la situazione e dentro di noi ci diciamo io non avrei mai fatto l'errore che ha fatto questa persona che è stato investito per esempio da questa macchina. Io ogni volta che attraverso la strada guardo bene di qua, di là, destra e sinistra. Io non passo mai con il rosso. E quindi inconsciamente ci difendiamo da un'eventuale situazione futura simile. Ci rinforziamo il nostro istinto di sopravvivenza. Alla lunga però questa cosa avvelena la nostra fiducia nel mondo. Perché poi se uno continua a stare a guardare sempre gli incidenti dopo un po', non attraversano anche più. E la stessa cosa succede leggendo solo cattive notizie. Sì, è vero che abbiamo un momento di morboso piacere quando leggiamo una notizia in cui noi non siamo coinvolti. È stato ucciso qualcuno, io non sono stato ucciso, meno male, mi è andata bene. E quindi vediamo tutti i dettagli. Ma poi dopo un po' la gente non legge più i giornali perché dice ma il mondo va proprio a rotoli, tutto va male, i politici sono tutti ladri, la società va tutta male, le persone sono tutte cattive e quindi si diventa delle persone fredde, senza fiducia che poi fanno fatica anche a vivere e a scoprire i piaceri della vita. Quindi questa è una spiegazione che in parte spiega perché i giornalisti, qualcuni giornalisti ancora, indugiano sulle cattive notizie. Secondo te è solo una cosa tipica italiana o può essere esportata anche su altre realtà? Te lo chiedo perché qualche settimana fa sentivo in una trasmissione televisiva alcuni giornalisti che dicevano che è tipico dell'Italia in questo momento che tutti i giornali, tutti i telegiornali aprano con le notizie legate alla situazione del coronavirus, quindi il bollettino quotidiano con tutti i numeri. Mentre in altre nazioni si diceva io riporto quello che un po' hanno detto, non è così. Facevano l'esempio di Stati Uniti, Inghilterra, Germania. È un tema su cui vi siete confrontati? Ci avete ragionato? Sì, ti porto la mia esperienza. Io ho lavorato e ho vissuto in tanti parti del mondo, in tanti paesi e sicuramente non ho mai notato un modo di raccontare se stessi così critico come hanno gli italiani. Anche questi modi di scriversi quando noi andiamo all'estero non sono mai orgogliosi. L'italiano è molto raro che sia orgoglioso. Ci sono paesi molto più orgogliosi, la maggior parte dei paesi spesso parla bene di se stessa. Anche paesi che hanno subito delle dittature, se conoscete qualche rumeno, qualcuno che viene da paesi dove c'è stata una grande oppressione, è difficile che parlino male del loro paese. Magari possono parlare male di una persona, di un momento, però sono sempre orgogliosi. Noi italiani all'estero tendiamo un po' a piangerci addosso. Allora, i motivi sono tanti, sono storici sicuramente, ma questo sì, ripercuote anche nel giornalismo sicuramente. Il fatto di riconoscere con difficoltà le bellezze in cui noi viviamo è anche conseguenza del fatto che forse ne abbiamo davvero talmente tante che ci hanno abituati. Siamo abituati a vivere nella bellezza, da sempre, no? L'Italia è stata la culla della bellezza. Forse questo è un handicap da un certo punto di vista, perché mentre, se avete viaggiato, sapete benissimo che all'estero tutti ci invidiano. Quando ti presenti in una compagnia straniera come l'italiano, la gente sospira, no? Eh, l'Italia, voi sì che mangiate bene, voi sì che state bene, il mare, il cibo, e poi, vabbè, i soliti luoghi comuni, la pizza, eccetera. Però tutti vorrebbero venire a vivere in Italia. Molti lo fanno, lo sapete, no? Molti attori, molte persone facoltose in età pensionabile vengono a vivere da noi. E noi li guardiamo un po' straniti, come dire, ma voi non sapete cosa succede in Italia. Ma voi, quando sentite questa storia, voi sapete cosa succede negli altri paesi? Ecco, le cose vanno male come da noi, la burocrazia c'è anche lì, i politici che rubano ci sono anche lì, gli omicidi ci sono anche lì. Noi abbiamo tante cose belle, ma abbiamo una difficoltà a riconoscerle. Questo sarebbe molto lungo parlarne, ma proviene sicuramente da uno strateggiamento storico. E poi, se devo dire qualcosa di più recente, anche da un certo tipo di politica, che invece è tipicamente italiana, ha un certo modo di fare politica. Cioè, la politica che è all'opposizione, che lavora per screditare la situazione in cui si trova il paese, per cercare di avere consensi nell'elezione successiva. Cioè, fa di tutto, soprattutto attraverso l'informazione, per far passare una situazione congiunturale peggiore di quella che è, in modo da attirare il malcontento verso di sé, come una proposta alternativa. E devo dire che negli ultimi 10-15 anni questa cosa si acuita tantissimo. Certo. Hai parlato di profitto. Io chiederei ad Alberto, che in regia, se ci fa vedere un'immagine della rivista Mezzo Pieno News. Perché c'è una cosa interessante che volevo far notare, adesso che se compare, e che se notate in alto a destra, dopo il mese c'è scritto 0,00 euro. Cioè, tutto quello che mi sembra, poi correggimi se sbaglio, ma tutto quello che voi fate, e che mi sembra tanta roba, che richiede anche tanto impegno, tante energie, non è finalizzato al profitto. È gratis, che oggi è una parola che attira, che è abusata, però in questo caso, veramente, cioè, è un regalo che voi fate alle altre persone, alla comunità, dotandola di strumenti, di possibilità, e di crescita. Insomma, questa mi sembra una roba non da poco. Mi confermi che è così? Sì, noi crediamo fortemente nell'economia del dono. Nell'ultimo numero della rivista, abbiamo anche fatto uno speciale su questo, forti della collaborazione di una rete di imprenditori, che sono gli imprenditori per l'economia di comunione, che vivono la loro realtà imprenditoriale proprio come un dono. Cioè, pensate, ci sono degli imprenditori che probabilmente voi non avrete mai sentito, perché sono davvero poco inclini a comunicarlo, e già questo mi piace. Sono degli imprenditori che lavorano solo per far guadagnare gli altri. Pensate, ma sono tanti, sono 250 imprenditori solo facenti parte da questa rete, ma ce ne sono anche altre. Per loro abbiamo voluto fare questo focus nell'ultimo numero, che parla proprio di cos'è l'economia del dono, qual è lo stravolgimento del concetto di possesso, di proprietà che loro hanno portato nelle loro imprese. Sono imprenditori che non si arricchiscono, uno immagina un imprenditore che si fa anche un masso così, perché lo fanno per gli altri, per i loro dipendenti, per la società, per le comunità povere, per il mondo, per il bene comune. E sono persone in carne e ossa, sono vere. Noi crediamo in questo valore da sempre, lo abbiamo portato dentro il nostro movimento da subito, quindi è l'ultimo punto del nostro manifesto, quindi lo scriviamo, chi è dentro a mezzo pieno lo fa senza obiettivo di creare profitto. Questo non perché il profitto sia il demonio, scusamente, il profitto è cosa sacrosanta, ma perché c'è anche un altro modo di fare le cose, di dedicare il proprio tempo, la propria energia, anche una parte di questa energia, solo per creare del bene agli altri, perché consideriamo e abbiamo sperimentato che fare questo provoca un piacere che in certi casi è addirittura superiore a ricevere del denaro. Quindi i nostri giornalisti scrivono gratuitamente sulla nostra rivista, gli insegnanti lavorano gratuitamente nelle scuole, tante persone lavorano nelle imprese per portare il nostro messaggio, per fare laboratori di attività nelle imprese, la rivista è riceguita gratuitamente, quindi noi lo diciamo subito, vi piace la nostra idea, sappiate che non prevediamo di pagare il nostro servizio. Poi ci sono delle figure che vanno pagate, di giusto, non possiamo pretendere che tutti lavorino gratuitamente. Questo viene finanziato da delle donazioni invece di persone che possono permettersi di lasciare delle cifre per pagare le spese, come la carta della rivista, naturalmente quella dobbiamo pagarla, e come altri servizi che si alternano al lavoro volontario di tante persone che provano una grande soddisfazione nel farlo per puro dono personale. Io ne approfitto anche per salutare chi ci sta seguendo. Abbiamo gli storici come Barbara e Maria, le nostre fedelissime follower, e poi Mirko, Mirko Labella, che è stato nostro ospite due o tre giovedì fa, che è anche un po' la liaison tra noi e te e Luca, perché è lui che ci ha messo in contatto, e quindi ringraziamo Mirko perché ci ha permesso di conoscere una realtà bella, sono queste le realtà che noi vogliamo far emergere. Mi collego velocemente perché abbiamo già superato i 40 minuti di diretta, quindi ci avviamo per un po' al finale, ci sono tante cose ancora da raccontare che ti vorrei chiedere, però farei comparire un attimo la nostra card per tornare un po' in ambito comunicativo, il nostro claim su cui lavoriamo sempre è che fare bene non basta, bisogna farlo sapere, che è una frase molto semplice, però riassume bene il nostro lavoro, spesso noi incontriamo realtà importanti, a volte uniche, che fanno cose incredibili e che non è scontato che tutti conoscono, quindi il lavoro comunicativo è fare emergere un po' queste realtà. Tu ci hai raccontato un sacco di cose comunicative che fate da un telegiornale a una rivista, al blog, all'utilizzo dei social, quello che hai detto prima dei social d'oggi sono fondamentali, ci sono, l'abbiamo citato qualche, forse con Mirko, nella puntata con Mirko abbiamo parlato di Chiara Ferragni, una delle influencer più seguite, alla quale il primo ministro Conte chiede di fare una storia per dire alle persone di mettersi la mascherina, quindi pensiamo come una cosa così anni fa sarebbe stata impensabile e oggi diventa la realtà, quindi la comunicazione si sposta su più ambiti. E quindi ti volevo chiedere, un po' ce l'hai raccontato, in ambito comunicativo come vi fate conoscere dai vostri soci, come lavorate sulla vostra rete e poi che cosa vuol dire comunicare cose belle, cioè la comunicazione sia uno strumento per raggiungere l'altro e dirgli qualcosa, ma nel comunicare certe cose, usare un certo tono, quando nel manifesto una delle prime voci è di essere sempre pro, mai contro, anche questo è un modo di comunicare e di raccontarsi e raccontare certe cose. Sì, la comunicazione è fondamentale nel nostro mondo e nel nostro movimento, quindi abbiamo subito dato un grande valore, siamo nati come un progetto comunicativo, come un blog ed è sempre rimasto il nostro focus, quindi il fare tanta comunicazione, cioè il basarsi sulla comunicazione, perché riteniamo che se c'è un modo per cambiare la percezione di ciò che avviene attorno a noi è comunicarlo, questo l'ha spiegato molto bene Mirko Labella anche l'altra volta, la percezione che abbiamo del mondo si fa anche nel modo in cui noi lo vediamo e quindi come ce lo comunicano gli altri anche, quindi anche i discorsi che facciamo tra di noi, il modo in cui lo diciamo, le parole che usiamo, il tenore degli argomenti che affrontiamo, quindi è fondamentale, quindi un buon comunicatore deve oggi avere delle forti competenze tecniche, questo è il vostro mestiere, e probabilmente anche delle competenze psicologiche importanti per sapere con chi sta andando a parlare, usare il linguaggio giusto per il pubblico a cui indirizza il suo messaggio, quindi dal punto di vista imprenditoriale una buona comunicazione è fondamentale perché il messaggio vada, fare una cosa buona ma non farla conoscere è uno spreco di energia, penso che questo sia l'argomento di cui voi tratterete spesso con il vostro lavoro, quindi far capire quanto è importante comunicare, io questo me lo porto anche dalla borsa, perché io quando, pensate, quando io gestivo dei grandi patrimoni, il mio mestiere era comprare e vendere titoli, titoli in borsa, come facevo a scegliere che azioni comprare o vendere, quando comprarle, quando venderle, solo semplicemente in base a ciò che leggevo su queste aziende, quindi ciò che loro comunicavano la gente pensa di questa azienda, perché poi il prezzo delle azioni e delle valigazioni in borsa si muove in base a questo sentiment, cioè a quello che la gente pensa di un'azienda, non solo a come va l'azienda, quindi tutti e due elementi sono importanti, quindi ho fatto, ho imparato da questa esperienza di comunicare bene quello che si fa e ancora oggi, come avete visto da ciò che facciamo, la comunicazione è al centro di tutto ciò che facciamo e poi anche il modo in cui lo facciamo, riteniamo che sia importante usare le parole giuste e i messaggi giusti, quindi per questo abbiamo dei giornalisti professionisti che si occupano di redare la nostra rivista, abbiamo degli insegnanti che vanno nelle scuole, dei comunicatori, degli psicologi, degli educatori, non persone improvvisate, quindi ognuno può svolgere il volontariato ma nel settore in cui è competente, non credo nel tutto fare, nelle persone che si arrangiano, io credo che fare le cose buone debbano essere fatte anche bene, lo diceva anche Don Bobo, non l'avete inventato voi questo motto, è un motto che condivido in pieno e che condivido sempre con tutti i membri della nostra rete, a volte mi accorgo che molte persone fanno del gran bene ma proprio perché sono molto concentrati a fare del bene non ne parlano, non hanno né tempo né la capacità di farlo, allora è giusto appoggiarsi a dei professionisti che lo facciano come voi, è molto importante dedicare dell'energia per questo perché la gente deve sapere quanto di buono e di bello succede nel mondo perché possa anche fecondarsi di questa energia, altrimenti rimane il benessere che noi creiamo al beneficiario, all'utente del nostro gesto ma non possiamo creare questo effetto di fecondazione, di imitazione che invece può fare una buona cosa ed è per questo che noi parliamo di buone notizie, di buone pratiche perché vogliamo che la gente copi da lì, prenda da lì, si ispiri da lì e vi invito tutti e quanti a farlo nella propria vita ma non in modo presuntuoso, non dovete raccontare quanto siete bravi quanto siete belli, anche solo raccontare ciò che fanno altri però nei vostri discorsi basta lamentarsi, basta raccontare sempre ciò che non va, specialmente in questo periodo lo avete notato, ci lamentiamo di cosa non va nel governo, io avrei fatto così, io avrei fatto cosa e ok siamo tutti allenatori fuori dal campo, fuori dallo stadio e siamo tutti politici e questo fa molto male, può fare davvero bene invece andare, sforzarsi di trovare le cose buone che ci sono attorno a noi e raccontarle, questo per riequilibrare un mondo che è fatto di cose buone e di cose cattive ma che spesso si sofferma troppo spesso su ciò che non va. In tema di buone notizie, qual è la notizia secondo te più bella o più interessante che ti è capitata in questi anni di veicolare o quella più particolare insomma che ti rimane senza pensarci troppo, ce n'è una che ti viene in mente? Ce n'è una pazzesca, non so se l'avete mai saputo ma voi lo sapete che la vegetazione nel mondo, quindi le piante, l'erba, tutto ciò che è vegetale, cresce continuamente, cioè noi pensiamo a tutti che nel mondo si tagliano foreste, ci sia sempre meno alberi, meno verde, invece è il contrario, la superficie vegetale che copre il nostro pianeta aumenta costantemente e da sempre, quindi non è vero che il mondo è meno verde, lo sapevate? Lo sapevi Francesco? No, assolutamente no, avrei detto proprio il contrario. Infatti la trovo sconvolgente, allora la base scientifica di questo, come tutto noi ci andiamo a informare da dove vengono le notizie, altrimenti riportiamo fake anche noi, sono diverse ricerche e tutte sono concordi, non c'è praticamente nessuno che non è d'accordo con questa teoria, anche perché è stata anche fotografata questa mappa, anche Google ha messo a disposizione il proprio sistema di Google satellitare di Maps per fotografare le aree verdi del mondo e la risposta è che questa è una conseguenza della maggiore presenza di CO2 nell'ambiente, quindi è una conseguenza del fatto che il mondo è più inquinato. Ecco, l'ambiente, la Terra risponde risponde creando più vegetazione, perché la vegetazione si nutre di CO2, è come se noi in un acquario mettessimo più mangime, dopo un po' i pesci si moltiplicano perché mangiano di più, quindi il mangime è una cosa, è veleno, il CO2 è il veleno del mondo, quello che noi produciamo è che dovremmo sicuramente continuare a provare a ridurre per altri motivi, anche perché è vero che la vegetazione aumenta, ma ci sono altri effetti collaterali molto negativi, ma il mondo reagisce e quindi sta rispondendo, quindi non crediamo di essere noi che distruggeremo il mondo, il mondo al limite farà fuori noi a un certo punto. Si, si sta provando. Ma il mondo non muore. Rispetto a questo, mi viene in mente, l'hai citato, il tema delle fake news, il tema di andare a verificare le fonti, a dire una notizia, ok, ma chi la dice, perché la dice, e su quale basi si fonda la sua teoria. Adesso si parla molto di infodemia, cioè la cosa che siamo bombardati da notizie magari false, eccetera, eccetera. Ti chiederei come si pone mezzo pieno rispetto alla fake news, qual è la vostra idea e qual è la vostra proposta per combattere in un mondo in cui basta oggi essere su un social, avere un po' di follower e scrivere qualsiasi cosa. E tu lo sai bene perché voi avete, siete presi da un blog molto seguito e quindi lì potevate anche scrivere qualsiasi cosa, magari c'era chi leggeva e ascoltava le notizie che ricollavate. Sì, importantissimo questo. Uno degli elementi fondamentali per un giornalista, io ho fatto anche giornalista quando lavoravo in Bossa, quindi mi hanno insegnato quali sono gli elementi, una delle prime cose è che la notizia deve essere vera. Ma vera che vuol dire anche che il giornalista non ci deve mettere dentro delle sue idee o dei suoi commenti, quindi degli aggettivi, quindi secondo me ok, deve essere vera ma anche scritto in un modo rispettoso per chi legge, in modo da non manipolare l'idea che si fa a un lettore. Questo è molto difficile. Allora, però per tornare al succo della domanda, la fake news come è definita oggi è la notizia falsa. Può essere falsa in diversi modi, può anche dire una parziale verità o nascondere una parte della verità ed è già fake solo per quello. Quando uno non riporta tutta la notizia è già fake. Questo è un lavoro molto importante che noi facciamo già con le scuole quando facciamo i laboratori di giornalismo costruttivo. Ci occupiamo anche di lavorare su questo argomento con i giornalisti, quindi facciamo corsi di giornalismo positivo e costruttivo accreditati per gli ordini dei giornalisti in cui raccontiamo questi temi ai giornalisti professionisti e a chi sta diventandolo. Anche nei master di giornalismo dell'università portiamo questo tema che per fortuna non è nuovo quindi non abbiamo inventato nulla però quello che abbiamo fatto è creare un protocollo per il fact checking che adottiamo in mezzo pieno news e che proponiamo a tutti i giornalisti e a delle redazioni esterne anche la nostra redaterna con dei punti molto chiari che di sintetizzo raccontano il modo in cui si devono catalogare le fonti raccontare sempre da quale fonte è stato preso un articolo è andare è stato preso una notizia un'informazione andare sempre alla base quindi risalire andare indietro il più possibile al primo che l'ha detta la cosa se è possibile a chi l'ha vista questa cosa quando è possibile andiamo noi anche a verificarla o chiamiamo la persona che era sul posto riportare tra virgolette ciò che è stato detto e mai come opinione proprio quindi chiarire bene qual è il messaggio detto in prima persona e qual è il messaggio riportato dal giornalista pulire la notizia di qualsiasi aggettivo commento valutazione personale cosa molto difficile ciò nonostante anche solo la scelta di quale notizia si racconta è già comunque una presa di posizione perché se io decido di raccontare questa notizia e non un'altra anche perché non possiamo raccontare tutto in qualche modo mi sono schierato Mezzopieno ha dichiarato qual è il suo il suo principio ideologico quindi anche solo il fatto di dichiararlo è una trasparenza noi raccontiamo buone notizie quindi per noi questa notizia è buona è ovvio che ci sarà qualcuno che penserà che quella notizia non è buona c'è sempre il Mezzopieno e il Mezzopieno ogni cosa può essere vista in diversi modi quindi noi ci esponiamo in qualche modo chiediamo però ai giornalisti delle testate nazionali di fare il loro lavoro pulendo tutto ciò che loro scrivono da delle valutazioni che possono essere riconducibili a delle ideologie quando c'è un'ideologia quindi quando è un giornale di partito o un giornale che tratta una determinata materia lo avrà dichiarato quindi uno sa che se sto leggendo un giornale sull'ambiente la posizione sarà di pro ambiente quindi ambientalismo o veganesimo o qualsiasi materia se io leggo il giornale di un partito che sia ben chiaro che sto leggendo il giornale di quel partito che quindi esprime le idee di un partito non c'è niente di male però bisogna dirlo quando invece non si dice è molto pericoloso quindi il fact checking consiste in analizzare tanti di questi punti sono una quindicina di punti potete trovarli al fondo di ogni nostra notizia le persone possono capire quali sono i modi in cui noi verificiamo le nostre notizie e raccontiamo molto interessante il fatto di avere una metodologia e uno schema una prassi che ti permette di costruire una notizia di sapere la legge insomma di avere un non è aleatorio dirà questo è giusto cosa è sbagliato si fa così ma avete proprio un metodo e dimostra tutta la professionalità che c'è dietro farei vedere il commento di Barbara che dice che sono d'accordo siamo sommersi da energie negative e bravi che proponete la comunicazione gentile nelle scuole perché i giovani hanno bisogno di fiducia e positività insomma mi sembra un'ottima analisi e un ottimo complimento al quale mi associo e che ti riporto con piacere siamo a quasi siamo a 55 minuti quindi siamo ben verso la fine della diretta noi ci proviamo sempre di stare sui 50 minuti ma poi le cose da dire sono sempre tante e ce ne sarebbero ancora molti io ti chiederei velocemente due cose una è la tua è il tuo buon consiglio nel senso che noi e i nostri ospiti chiediamo sempre un buon consiglio da regalarci da regalare a chi ci sta seguendo qual è il tuo buon consiglio che senti di trasmettere vi do un consiglio che io applico da una quindicina di anni personalmente tutte le sere e che per me è diventata una malattia quasi una malattia bellissima che è quello di prendersi del tempo allora se volete se non siete abitati si può iniziare a fare alla sera prima di andare a dormire prendersi del tempo per riprendere dentro di sé le cose che si sono fatti durante la giornata e trovare le più belle non dare per scontato le cose belle che ci capitano quindi se non siamo abituati le prime volte si può fare nel silenzio della propria stanza prima di addormentarsi quando si sono spente le luci quando si è spento il mondo si è fatto tutto quello che si deve fare e si è pronti per addormentarsi prima di coricare la testa sul cuscino ringraziare per le cose belle che ci sono capitate è una forma di gratitudine che accumula io li chiamo crediti di gratitudine e che è preventiva e credo sia molto importante lavorare prima che succedano le disgrazie nella vita perché poi quando capitano è dura ci sono andate i giorni in cui nella vita sarà impossibile trovare qualcosa di cui ringraziare perché saranno troppo duri ma se non l'abbiamo fatto per tanto tempo prima avremo talmente tanti crediti di gratitudine che quel peso che ci arriverà a quel mattone che ci arriverà a quel giorno lo potremmo affrontare con una forza diversa e anche se durerà più giorni mesi o settimane avremo la consapevolezza che abbiamo avuto tanto tempo per contemplare le cose belle della vita che probabilmente torneranno dopo avremo di nuovo la forza di rinotarle e se poi saremo così fortunati di avere questi mattoni questi macini il più tardi possibile e il più leggeri possibile potremo davvero imparare una cosa che io mi porto ormai dietro non solo più nel minuto prima di addormentarmi ma continuamente prendersi del tempo per guardarsi da fuori come una mosca che guarda a te stesso e che vede quanto è bello ciò che fai ogni momento ha qualcosa di bello io per esempio in questo momento sono davvero contento di essere qua perché sto in qualche modo portando il messaggio che io desidero alle persone credo che qualcuno stasera magari si porterà a casa qualcosa di mio un po' il mio ego sto alimentando il mio desiderio di fare sentire la mia voce sono in una casa con la mia famiglia sto bene ci sono delle piccole e grandi cose nella vita continui una dopo l'altra che lasciamo passare come se niente fosse allora il mio consiglio è di fermarle fermarle ringraziando che ci sono ce ne sono talmente tante che dopo un po' diventa una malattia oltre che mi perdo la gente mi dice ma ci sei e sì magari sono lì che contemplo che ne so la foglia ingiallita dell'albero non si tratta di romanticismo si tratta di dare un valore a ciò che abbiamo perché invece poi se no glielo diamo solo alle cose negative è così facile le cose negative ti arrivano e non devi neanche stargli tanto a notarle perché si fanno notare da sopra e allora metterci un po' di energia da dedicare alla bellezza è uno sforzo che all'inizio può sembrare difficile e poi vi auguro che succeda anche a voi che diventa poi un'abitudine e allora la vita caspita è molto più bella è la stessa la vita è la stessa rimane la stessa di prima ma il modo in cui tu la vivi è tutto un altro è troppo bello provateci ve lo suggerisco sforzatevi per una settimana di farlo tutte le sere e poi se vi piace continuate mi sembra un ottimo consiglio mi da metà puntata se non prima che mi fai venire in mente Peppino impastato banalmente perché quando lui diceva le parole sono importanti tu prima l'hai detto e adesso hai detto c'è bisogno di bellezza lui diceva questo non abbiamo bisogno di bellezza che poi è tutta una cosa che diventa diventa virale diventa contagiosa quando ti abitui a questa cosa penso a una cosa che mi ha insegnato la mia compagna che la nostra figlia nel lettone alla sera gli chiede sempre dimmi la cosa bella che ti è successa oggi e anche io ho iniziato a farlo ed è bella questa cosa perché ti prendi quei due o tre minuti in cui questa bambina ti racconta le sue cose in tutto nel suo mondo di una bimba che ha tre, quattro, cinque anni ed è interessante insomma prendersi del tempo per noi stessi credo non sia scontato e forse vedendolo dall'India all'Italia capisci tante cose come noi siamo con i ritmi sempre serrati e in questo la quarantena forse ci ha rinsegnato un po' a riprenderci il nostro tempo e a riepproparci insomma di ritmi diversi ti faccio ancora quest'ultima domanda che siamo all'ora di diretta in tema di coronavirus pandemia insomma tutto quello che stiamo vivendo oggi noi abbiamo iniziato a fare questa diretta a maggio in piena quarantena e oggi siamo alla vigilia almeno in Piemonte di una cosa di nuovo molto simile alla quarantena noi chiedevamo sempre ai nostri ospiti un messaggio positivo che cosa si portavano dietro da questo periodo come insegnamento e un modo positivo per reagire io so che voi avete fatto un'iniziativa molto importante in primavera proprio in pandemia rivolta un po' alle aziende alle persone che era una cosa disponibile sul vostro sito e siamo una cosa importante da veicolare e da raccontare se hai voglia di dircelo di questo manuale dell'impresa positiva si abbiamo subito dopo il lockdown della primavera abbiamo raccolto un appello degli imprenditori della nostra rete mezzo pieno che sono imprenditori non solo della categoria di cui parlavo prima quindi dell'economia del dono ma anche imprenditori che semplicemente condividono un modo di fare impresa più positivo abbiamo raccolto la loro richiesta di cercare delle vie di uscita per i problemi che stavano cadendo sulle imprese legati alle chiusure alla difficoltà della gente di spostarsi eccetera e quindi siccome la rete è abbastanza folta abbiamo creato un tavolo di lavoro con questi imprenditori per scambiarsi delle buone pratiche cosa che noi facciamo già sempre con tutte le altre categorie ma in particolare durante il lockdown abbiamo deciso di concentrare sulla categoria degli imprenditori e quindi abbiamo raccolto le migliori buone pratiche di questi imprenditori in questo manuale gratuito anche questo che è anche ebook ma è anche cartaceo la forma cartacea vi devo dire che purtroppo è praticamente finita quindi non vi potrò inviare delle coppie cartacee ne avrò forse 4 o 5 quindi se proprio ci tenete scriveteci ve la mandiamo però ne abbiamo fatte fuori diverse centinaia e per il momento vi direi di andare sul sito di scaricare l'ebook dove potete trovare delle buone storie di imprese che hanno fatto delle cose all'interno delle loro aziende per risolvere i problemi come creare una kids room una stanza per i ragazzi per le persone che non potevano lasciare a casa i loro figli o come imprenditori che hanno scelto di soddisfare gli ordini dei loro clienti tradizionali invece di prendere nuove partite parlo di quegli imprenditori magari che avevano che vendevano prodotti chimici che hanno avuto un'impennata di richieste quindi per rimanere fedeli ai loro impegni e non hanno preso nuove commesse oppure di parrucchieri che hanno deciso di mettersi tutti insieme questo nella prima fase che ricordate che erano chiusi i parrucchieri hanno pensato di fare dei saloni condivisi quindi siccome il parrucchiere è troppo piccolo di solito è una stanzetta prendere delle grandi stanze quindi con dei standard condivisi di purificazione di igienizzazione e affittare la poltrona quindi condividere i problemi e affrontarli insieme ci sono tante storie da piccole a grandi imprese che hanno avuto delle idee che possono essere replicate da altre imprese per affrontare in modo più sereno questa fase economica così difficile e per non smettere di fare imprese in modo positivo quindi ve lo suggerisco sul nostro sito nella sezione pubblicazioni insieme ad altre pubblicazioni che abbiamo preparato negli anni passati grazie assolutamente un buon consiglio e devo dire che poi quello che è interessante è la praticità di questi insegnamenti perché non non è che uno dice vabbè bisogna essere positivi solo belle notizie ma voi avete anche un metodo e un sistema per fare degli esempi concreti che poi appunto possono generare nuove idee e questo secondo me è una cosa fantastica perché poi con la prassi quotidiana l'esempio quotidiano si generano nuove nuove storie nuove belle realtà ti ho detto che io lavorando in borsa dovevo portare a casa la performance io nella vita sono fissato sul concreto è bello la praticità la concretezza penso che le parole siano importanti se sono solo una preparazione per poi fare qualche cosa per cambiare qualche atteggiamento altrimenti sono solo parole farei vedere l'ultimo messaggio di Barbara che secondo me ci siamo riusciti allora è stata una buona puntata da quest'ora ho ricevuto una sensazione di benessere grazie perché non conoscevo questa realtà ma approfondirò buona serata quindi grazie a te Barbara per aver condiviso e anche io devo dire che mi rivedrò a questa puntata perché vado a casa molto più rilassato e pronto a seguire l'insegnamento che mi hai detto stasera quindi spengo la tv e mi dedico a quello a proposito di approfondire questa realtà e conoscere nel dettaglio scoprire bene che cos'è Mezzopieno farei vedere i tuoi contatti insomma di Mezzopieno per contattarvi avete un sito mezzopieno.org e poi siete sui social su Facebook su Instagram e sul canale Twitter il sito è assolutamente da vedere perché è ricco di news di notizie di buone prassi tutto quello che abbiamo detto finora prima di ringraziarti dell'ora che ci hai dedicato anzi dell'ora e sei minuti che ci hai dedicato faccio ancora vedere l'ospite della prossima settimana avremo con Edoardo Ferrante che è uno chef vegano un altro che ha una bella storia da raccontare anche lui è un visionario uno che all'improvviso ha abbandonato un lavoro sicuro in un'azienda per dedicarsi ai suoi sogni e realizzarli proprio con lui parlavo oggi lui oggi chiude non si sa fino a quando il suo ristorante e dice sarà una bella sfida sarà una scommessa capire cosa cosa succederà mi dice io non chiudo non mollo cioè non non getto la spugna e quindi anche la positività del concreto dice ci inventiamo qualcosa l'asporto altre cose insomma sarà molto interessante e credo che molte realtà avranno bisogno di positività per queste settimane questi mesi verso cui andiamo c'è ancora Mirko Labella che ringrazia ringrazio innanzitutto secondo me Luca quindi grazie ringrazio per Luca ringrazio anche a me ma io sono semplicemente un facilitatore della conversazione grazie Mirko che ci hai seguito e che sei sempre presente e che ci hai fatto ringrazio lui ringrazio Mirko perché tante delle cose che vi ho detto sono frutto dell'insegnamento di Mirko Mirko Labella lo so bene perché nella puntata che abbiamo fatto l'ora che ci hai dedicato è stata piena di idee di nozioni di insegnamento quindi è stata una roba pienissima prima di salutarci farei vedere gli hashtag che ho segnato per la puntata di oggi insomma io segno sempre un po' le parole chiave che sono venute fuori vabbè il 2005 che è stato l'inizio di tutto il fatto di un bene comune è bello questo di pensarci come società e di regalare qualcosa a tutti quindi io da cittadino del mondo ti ringrazio per quello che stai facendo quello che hai portato avanti perché la società il mondo è più bello se ci sono persone che fanno le cose che fai tu e che fate voi come mezzo pieno mezzo pieno che è insomma la realtà che abbiamo conosciuto la passione i sogni che ci hai messo il Tg delle buone notizie l'India da cui è un po' partito tutto il consumismo paragonato all'Occidente i ragazzi che sono quelli con cui fate formazione a cui vi dedicate i gratis questa parola importante che c'è sempre con le vostre iniziative l'andata e il ritorno le informazioni i racconti l'agire le cose positive le parole il cambiamento comunicare l'economia del dono la formazione che per voi è importante è venuto fuori voi fate molta formazione quindi è una cosa importante che regalate alle persone degli strumenti su cui lavorare il giornalismo di cui abbiamo parlato molto la concretezza e le informazioni insomma sono tante le parole che sono venute fuori io Luca ti ringrazio di cuore perché è stata una puntata molto densa ci ha insegnato un sacco di cose ho scoperto una realtà che non conoscevo e che dovrebbero conoscere tutti perché il mondo sarebbe più bello e da cittadino del mondo lo ripeto ti ringrazio perché quello che fai è veramente tanta roba e quindi grazie grazie a te Francesco buon lavoro a tutti grazie ti seguiremo grazie a chi ci ha seguito aspetta c'è ancora un commento di Mirko dice siete proprio davvero bravi tutti e due avete dato il vostro meglio e creato una nuova bellissima puntata puntata che rimane sui nostri canali anche poi sul canale YouTube sul nostro canale YouTube Patrucco quindi chi se l'è perso chi la vuole rivedere può sicuramente riascoltarci grazie Luca grazie che ci hai seguito ciao a tutti grazie grazie buonanotte